5, 4, 3, 2, 1, 0 Sono Maria Carlo Perizzuto, nell'elaborato che ho presentato parto facendo un escursus storico per dimostrare come il potere nel corso del tempo si è stato fonte di sopraffazioni dei più forti sui più deboli. Arrivo poi a trattare gli autori come Locke, Mises e Hayek che hanno come punto in comune quello di considerare la funzione dello Stato come una funzione residuale. Lo Stato deve essere limitato, c'è chi intravede il limite nel mercato, chi nel diritto e chi nel pluralismo sociale. Sicuramente però lo Stato deve esistere, ecco la differenza tra i liberali e gli anarcho-capitalisti. Lo Stato deve agire per dirimere e prevenire gli eventuali conflitti nella esplicazione della cooperazione sociale. Concludo affermando che comunque lo Stato al giorno d'oggi è troppo invasivo nella sfera privata dei cittadini e che forse si dovrebbe attuare col diritto di resistenza, tanto teorizzato da Locke in questi casi, nel momento in cui lo Stato interviene troppo nella sfera dei cittadini. Stato interviene troppo nella sfera dei cittadini.